Salve a tutti da Gianni Lepre, questo è Focus Sud, il format di Italpress che approfondisce le problematiche, l'economia, l'attualità del sud dell'Italia. Ogni 15 giorni lo facciamo con personaggi di alto profilo, la prova tangibile. Oggi abbiamo con noi Paolo Giulierini, il direttore del MAN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, uno dei musei più importanti al mondo, questo lo possiamo dire, un museo che presenta tante tante opere, ma non soltanto quelle visibili, ci sono delle opere, le possiamo definire purtroppo invisibili al grosso pubblico, praticamente il MAN potrebbe essere tre volte il MAN, ma di tutto questo ovviamente ne parliamo con l'esperto Paolo Giulierini, grazie di aver accettato il mio invito, noi scegliamo del tu come lo facciamo nella vita di tutti i giorni. Ecco, tu dirigi il MAN che è tra i musei forse, anzi certamente più importanti al mondo, ecco cosa significa, che significato ha per l'Italia, per il sud, per il mondo avere il MAN? Beh innanzitutto grazie dell'invito, gestire il MAN è una grande onore in primo luogo, è una grande responsabilità. E' un grande onere naturalmente. Ed un grande onere. Il MAN rappresenta uno dei baluardi della cultura occidentale, è l'espressione forse massima della scultura, pittura greco-romana e è il più grande prestatore, per esempio in Italia, di opere nel mondo. Noi rappresentiamo il 75% dei prestiti dei musei italiani, siamo presenti nelle principali capitali mondiali e rappresenta, a mio modesto avviso, per l'Italia, per il sud, un museo che in qualche modo non solo fu il Real Museo Borbonico, quindi il Museo del Regno delle Due Sicilie, ma attraverso la collezione farnese il campionario più completo dell'arte classica nel nostro paese e quindi conseguentemente nel mondo. Bene, ma noi abbiamo detto che il MAN nasconde ancora tanti tanti tesori, quindi questo, quali sono le prospettive in questo senso? Tra le altre cose ecco il museo, un museo e cultura, tu ovviamente sei tra i pupilli prediletti del, noi lo sappiamo, questo del Ministro San Giuliano, quindi vuol dire che i tuoi contatti sono, oserei dire, quasi settimanali, se non giornalieri, quindi state lavorando molto proprio per dare più visibilità ai tesori nascosti del MAN. Esatto, per dare una cifra il museo espone attualmente, essendo stato praticamente completamente riaperto, circa 18 mila reperti di qualità, ma questa cifra rappresenta il 20% di quello che è nei depositi e proprio grazie ad un input del Ministro San Giuliano è stata avviata una grandissima operazione per riesibire una buona parte dei materiali che sono nei nostri depositi, che hanno il nome di Sing Sing, non a caso, nel Palazzo Fuga, ovvero fosse un carcere praticamente. Esattamente, è un carcere dei beni culturali dal quale però stavolta i carcerati escono, i nostri beni culturali, e vanno ad impreziosire l'albergo dei poveri o Palazzo Fuga, secondo questa idea illuminata del Ministro, per portare una buona parte del MAN alla pubblica fruizione. Bene, questo è un fatto naturalmente molto positivo, perché tra le altre cose, ovviamente, io sono di quelli che asseriscono che con la cultura si mangia, non è vero che non si mangia, quindi tutto questo porterà ancora più turismo alla nostra città e quindi ne soffriranno non soltanto gli operatori del settore, ma addirittura l'intera città. Quindi c'è tanto, in questo senso c'è tanto da lavorare e naturalmente, ecco, io l'avevo detto prima, in effetti c'è un MAN che si vede, ma ci potrebbero essere tre MAN, a questo punto addirittura quattro, perché parliamo dell'80% dei tesori nascosti. Naturalmente l'Italia deve, come devo dire, saper sfruttare questo patrimonio immenso che noi abbiamo, probabilmente il nostro patrimonio artistico-culturale rappresenta il 75% forse di quello che è il patrimonio artistico e culturale del mondo. Sì, io credo che il problema dell'Italia non stia tanto nel tema dei ritorni delle opere in Italia. Questo è giusto che tornino nei tempi e nei modi che prevede la magistratura. Il tema fondamentale, che è quello appunto che ha ben inquadrato il Ministro San Giuliano, è la valorizzazione dei nostri depositi. E allora, per capirci, noi a Palazzo Fuga saremo ospitati su 11.000 metri quadri nuovi che si sommano ai 20.000 metri quadri espositivi del man, quindi quasi una sorta di metà man che si sposta, ma in prospettiva questo potrebbe ancora aumentare. Di più, tutte le mostre che abbiamo all'estero, insomma siamo presenti un po' dappertutto, consentono di far fruire e ruotare ancora questo materiale di deposito, che è in deposito non perché è di fascia B, ma semplicemente perché non ci sono spazi. Allora, l'idea di un museo disseminato in città e nel mondo, ma soprattutto in città, è come appunto dicevi te, è una potenziale arma per innescare meccanismi virtuosi rispetto a più lavoro per i giovani, a più servizi per la città, a un'offerta variegata e anche a un incremento totale del turismo. Noi dobbiamo dire che naturalmente questo evidentemente è soltanto il primo passo perché c'è tanto da fare, però per fare occorrono anche i soldi tanto per intenderci. Ecco, volevo un attimino sapere da te, in effetti il PNRR che cosa prevede per i musei in generale e per i luoghi di cultura? Beh, intanto c'è un discorso molto virtuoso che è stato messo a punto e cioè che per i grandi progetti, come per Palazzo Fuga, che appartiene al Comune di Napoli, c'è una convergenza di fondi, quindi 100 milioni del PNRR destinati al Comune di Napoli, 38 milioni aggiunti dal Ministro San Giuliano a corroborare l'operazione e quindi quando si lavora per un medesimo obiettivo concentrando le forze è ovvio che i risultati si raggiungono meglio. Nello specifico invece ciascuno dei grandi musei ha avuto dal PNRR 2 milioni di euro nello stadio iniziale, uno legato al tema dell'accessibilità e uno legato al tema dell'efficientamento energetico. Si chiariscono così quali sono i due obiettivi di medio periodo, la valorizzazione appunto dei depositi con l'accessibilità ma anche il risparmio energetico, il guardare ai musei come luoghi possibili dello sfruttamento dell'energia green e quindi in questo senso nuovi modelli di educazione per i giovani, non solo in chiave storica ma anche di preservare questo pianeta che è messo a dura prova. Quindi diciamo che in effetti al di là di tutto anche i musei, i luoghi culturali possono rappresentare un motivo di occupazione, di nuova occupazione per i giovani. Tra le altre cose mi sembra di sapere che proprio in questi giorni dal Ministero sono arrivati o arriveranno ulteriori 4 milioni per voi, specificamente per il MAN e quindi come verranno impiegati in positivo questi soldi, questi nuovi fondi? Certo, allora questi fondi sono essenziali perché il MAN in questi anni ha sostanzialmente raddoppiato la superficie espositiva, quindi come dire riaprendo almeno 8 collezioni che erano chiuse fino all'ultima grandiosa inaugurata dal Ministro nel febbraio scorso, nell'aprile scorso dedicata alla statuaria campana e soprattutto riaprendo il braccio nuovo che ha un auditorium da 300 posti, un ristorante, un'ala del restauro e molto altro. Evidentemente per poter mantenere una macchina del genere che di continuo si incrementa, aumenta di superficie, spendendo virtuosamente i fondi europei dedicati alla materia edilizia, c'è bisogno anche di un conforto per poter far affronte anche ai costi dell'energia, per esempio, che sono aumentati anche a seguito della guerra con la Russia, con la Pielorussia e tanti anche i temi internazionali. Quindi questa particolare attenzione nei confronti del MAN è strategica per noi ma è strategica per il Sud perché evidentemente questo museo si trova a nord di tutta la rete dei musei che sono rappresentati in qualche modo da Napoli e tra l'altro la prossima apertura del braccio della ferrovia dell'alta velocità dalla stazione di Afragola fino a Bari chiarisce anche quelle che potranno essere le potenzialità di collegamento. Questo ti devo dire, tra le altre cose è motivo di piacere per me la linea veloce Napoli-Bari perché tra le altre cose io ho una docenza a Bari, non sono potuto mai andare con il treno e io questo poi lo dicevo spesso, c'è bisogno di una linea veloce tra due ovviamente capitali del Sud, parliamo Napoli e Bari perché addirittura per andare a Bari con il treno bisognava prendere la coincidenza a Caserta tanto per intenderci, quindi questa è un'altra cosa positiva per il nostro meridione d'Italia. Però ecco un'altra cosa importante, a parte voglio dire, mi riaggancio un attimo a quello che ha detto poco fa della sala di convegno per 300 persone, mi sembra che l'ordine dei commercialisti nazionali debba fare da voi un convegno, io lo sto organizzando, presenzierà anche il Ministro San Giuliano al convegno come verranno i vertici nazionali, quindi come vedi le cose ritornano sempre, si intrecciano. Ecco però poi volevo parlare adesso di un'altra cosa importante, un'altra idea del Ministro San Giuliano che nei mesi autunnali sta organizzando a Napoli il convegno UNESCO dove praticamente ci saranno oltre 300 delegati di tutto il mondo, ovviamente il convegno UNESCO per la cultura, quindi ecco volevo sapere da te questo che cosa significherà per l'Italia ma soprattutto per Napoli che ospiterà addirittura 300 delegazioni estere da tutto il mondo. Beh io credo che sia un segnale molto importante che il Ministro abbia voluto dare, innanzitutto non scordiamoci che l'Italia in tema di patrimonio dei siti UNESCO ancora credo per due siti è davanti alla Cina, ora se noi pensiamo alla superficie tra Italia e Cina capiamo quanta densità in più di siti c'è nel nostro paese e che tipo di responsabilità abbiamo, oltretutto il luogo dove si svolgerà il convegno e cioè il centro storico di Napoli è sito UNESCO e quindi un altro elemento virtuoso dell'iniziativa. È fondamentale ospitare questo convegno UNESCO perché si tratta di far comprendere, credo oggi, come il tema dell'archeologia, il tema dell'identità non possa essere più considerato come facevamo noi solo un tema dell'Occidente. L'archeologia in ogni paese rappresenta l'identità dei popoli. La conoscenza del passato aiuta in primo luogo i popoli a conoscersi e ad essere consapevoli delle loro radici e a poter dialogare con una migliore consapevolezza di chi oggi noi siamo e di chi sono gli altri. Quindi aver scelto Napoli, aver scelto anche in parte il MAN perché probabilmente qualche cosa anche di collaterale noi ci auspichiamo che venga svolto anche nel nostro museo, è fondamentale perché poi Napoli è una città del Mediterraneo, centrale rispetto al mondo antico e da sempre abituata all'osmosi e alla permeabilità. e quindi tutte queste diversità che verranno a consesso sotto l'alto patrocinio dell'UNESCO che però ha germinato come figlio anche per esempio soggetti come l'ICOM, come l'ICOMOS, eccetera, non può far altro che accreditare il ruolo dell'Italia che ha come dovere credo quello di essere tra i paesi trainanti di questo settore. Senti Paolo, adesso mentre ne parlavamo mi veniva in mente, in effetti come chi mi segue lo sa, io sono un amante dell'artigianato artistico, quindi del Made in Italy, di tutto quello che rappresenta l'eccellenza manuale del nostro paese. Ma mi chiedevo, Alman, c'è qualcosa che rappresenta dal punto di vista museale l'artigianato artistico del nostro paese? Certamente, noi abbiamo avviato un percorso virtuoso che poi si è concluso anche con un bando che è tuttora pubblico e che si chiuderà a vari step, nel quale abbiamo richiesto alle aziende che hanno un pedigree importante di riflettere in termini contemporanei sulle suggestioni date dagli oggetti del MAN, però utilizzando tecnologie tecniche che affondano nella grande tradizione napoletana. E per far questo abbiamo creato dei prototipi con alcune aziende di alta sartoria, oppure di oreficeria, oppure, come dire, attingendo a Torre del Greco, legate ai camei e così via. Questi prototipi sono già disponibili, saranno presto sul mercato online e potranno accompagnare anche le mostre all'estero. Il tema di fondo è che oggi i nostri bookshop, i negozi dei musei non possono permettersi più di avere, diciamo, pacottiglia perché poi questo pericolo si annida, per esempio, anche a San Gregorio Ormeno, che deve mantenere l'identità creativa artistica napoletana e a quel punto, diciamo così, diventa un altro ulteriore punto di forza perché chi passa per il negozio dei musei di Napoli trova cose, espressione di quel luogo, di quella città e non realizzate magari da altre parti del mondo, non faccio ovviamente citazioni, e poi comprate a poco prezzo lì. Devo dire che questa è una cosa molto interessante, anzi, se posso approfondiremo poi in separata sede quest'argomento perché, ripeto, io sono presidente di un'associazione, segretario generale di un'associazione Orafa del Club dell'Eccellenza, presidente onorare della confraternita dei Sartori che raggruppa i Sarti napoletani più importanti, quindi se potessimo creare delle sinergie, naturalmente tutto questo credo potrebbe essere positivo, ma per tutto il contesto, per tutti gli attori dell'iniziativa, non so se mi spiego. Sono d'accordo perché i musei sono il luogo dove viene teorizzata e presentata la genesi di ogni produzione, perché tutto è nato nel mondo antico, dall'orificeria alla moda, eccetera. Oggi i musei, tra l'altro, hanno la possibilità di apporre un marchio certificato di qualità, noi ce ne siamo dotati e quindi, come dire, il duplice marchio della Sartoria e del museo, per esempio, costituiscono un'eccellenza. Ma io mi chiedo, ovviamente stiamo improvvisando perché tutto questo non era, diciamo, nella scaletta, ma, per esempio, possiamo creare un laboratorio singolo di simbolo di Sartoria, di orificeria all'interno del manno o di un museo qualsiasi, ovviamente, parliamo del manno perché se tu dirigi il manno, in effetti, tecnicamente è possibile, quindi sono cose che si potrebbero, tra virgolette, quando parliamo di sfruttare, naturalmente parliamo di sfruttare in modo positivo tutto questo. Ma questo è possibile sia per l'artigianato, e già lo stiamo facendo anche, per esempio, in apertura del prossimo ristorante per la ristorazione, che non potrà essere banalizzata, ma dovrà essere espressione dell'alta cucina napoletana. Quindi è auspicabile che i musei diventino i luoghi della sperimentazione, ma anche della riconquista di queste tradizioni artigianali. Dove, se non nei musei, che sono il simbolo dell'identità? Benissimo. Il nostro tempo purtroppo è scaduto. In un minuto, ecco, quali saranno le prossime iniziative del manno? Beh, apriremo a settembre la sezione tecnologica, soprattutto perché è l'espressione di un tema fondamentale, che la tecnologia di Pompei ci dimostra come il mondo antico non sia solo arte, ma anche artigianato, industria e tecnologia. Quindi con questa operazione daremo più contezza di un mondo antico, che come il nostro non può fare a meno della tecnologia. Bene, il nostro tempo è scaduto. Io ringrazio voi per averci seguiti. Ringrazio naturalmente Paolo Giulierini per l'onore che ci ha dato, che ci ha concesso per essere qui presente con noi. Ci ha chiarito tante cose e naturalmente sono certo che hanno interessato anche chi ci ha seguiti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.